Aumentano le denunce per incidenti sul lavoro nel 2018. Lo ha reso noto l'INAIL oggi con il rapporto annuale, registrando dati preoccupanti per la sicurezza sul lavoro. Rispetto al 2017, le denunce sono cresciute dello 0,9%, ma ad impressionare è soprattutto l'aumento del 10,1% degli infortuni mortali. Un incremento si registra anche per le patologie di origine professionale che sono state 59.585 nel 2018. I dati rilevati dall'Istituto Nazionale sugli infortuni sul lavoro evidenziano a livello nazionale un incremento nel settore nord-ovest, nord-est e sud, con un calo per il centro e le isole. Questi dati ci preoccupano moltissimo, ha dichiarato il leader della UIL, Barbagallo. Prevenzione, formazione, partecipazione e sanzioni severe devono essere i pilastri su cui fondare una vera e propria politica della sicurezza. I temi della salute e sicurezza sul lavoro, ha concluso Barbagallo, dovranno essere al centro del confronto con le imprese e il governo, che a Spichiamo possa prendere il via subito dopo la manifestazione del 9 febbraio. Le parole di Barbagallo arrivano all'indomani dell'ennesima tragedia sul lavoro. Nella tarda serata di ieri ha perso la vita un giovane operaio della provincia di Bari. Il leader della UIL ha espresso il dolore e il cordoglio di tutta la sua organizzazione alla famiglia della vittima.